La vacanza di noi ragazzi e ragazze delle medie ci ha detto Don Giovanni che è un tempo di libertà, di gioia e di scoperta di cose nuove, di amicizia e anche nel nostro caso di crescita nella fede di Dio. L'esperienza più bella è stata giocare al mondiale. Ho pure vinto. È stato bello giocare insieme nei giochi di gruppo. Ci siamo tanto divertiti. Io ho scoperto l'importanza di stare insieme ai ragazzi e alle ragazze della mia comunità parrocchiale perché insieme abbiamo capito com'è importante vivere con Dio seguendo Gesù. Ho conosciuto persone molto simpatiche ed ho scoperto come si vive dentro una comunità. Ho scoperto che riesco a camminare per più di 40 minuti, che questo gruppo simpaticissimo ha dei gusti orribili in fatto di musica e che in compagnia siamo più felici. Che mi piace andare in monastero perché è bello lo stile di vita delle monache e dei monaci. Mi ha fatto molto piacere scoprire come Don Giovanni è diventato sacerdote. Uno dei compagni di questa vacanza ha detto Ho scoperto che le camminate sono faticose, ma la cosa più bella di questa vacanza è stata la scalinata sul monte titanico del secondo giorno. Ho anche scoperto, grazie a suore Emanuela, cosa fanno le suore. L'esperanza più bella è stata quella di vivere insieme e conoscere nuove persone e così conoscere un poco di più Dio. Mi è tanto piaciuta la storia di Chiara Corbella Petrillo.